Buonasera a tutti e benvenuti. Non si tratta questa sera di difendere la carne da un rischio legato al cancro, tumore al colon se non erro. Potremmo allora parlare per difendere le uova, per difendere il latte, per difendere il pollame, per difendere il pesce, per difendere le verdure, per difendere il vino e comunque qualunque altro genere alimentare adulterato da additivi chimici o comunque in grado di essere dannoso per la nostra salute. Quello che dobbiamo difendere è forse il nostro diritto a mangiare bene e per questo mi sento di condividere in questo momento quelle che sono anche le dichiarazioni del Ministro della Sanità in merito al recente rapporto dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha preso posizione in tema di carni rosse e di carni lavorate, indicandole come nocive per la salute con una forte possibilità, probabilità di poter portare o aggiungersi in termini di danno a quello che potrebbe essere un tumore al colon o comunque un tumore in generale. Le dichiarazioni del Ministero della Salute sono dichiarazioni invece che appunto ritengo condivisibili proprio perché non credo si debba creare ulteriore allarmismo per una notizia di questo tipo. Stiamo parlando di una sintesi di quello che poi sarà un documento che verrà esibito nell'anno 2016, ma stiamo anche parlando di una vicenda che sì, può essere interessata per il rapporto carne rossa, carne lavorata, tumore, ma che non debba spingere a terrori, panico, crollo dei mercati, esagerazioni giornalistiche. Adesso peraltro l'OMS pare si stia interessando anche del caffè e qui via con il panico futuro per quella che è la tazzina del caffè. Cerchiamo di essere aderenti alla realtà e di valutare nel giusto modo quelli che sono i rapporti scientifici. Fra l'altro in tema di allarmismo ne ha parlato anche il Presidente Mattarella recentemente che pure ha avuto un lutto in famiglia proprio a causa di una vicenda legata al cancro. Quello che conta è non esagerare, non diffondere notizie che possano aumentare oltre il dovuto quella che è la legittima aspirazione di tutti noi a rimanere in salute nel rapporto con quello che è il genere alimentare quotidiano che ci troviamo a gestire sulla nostra tavola. La carne rossa è stata inserita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel cosiddetto gruppo 1 e nel gruppo 2 la carne lavorata. I gruppi 1 e i gruppi 2 sono delle definizioni che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato nel racchiudere una serie di fattori a rischio per l'uomo e quindi a rischio di provocare il cancro nell'essere umano. Però dobbiamo anche ragionare in tutto questo perché se nel gruppo 1 abbiamo anche le radiazioni solari, abbiamo il fumo della sigaretta, abbiamo l'amianto, abbiamo il plutonio 239. Non è che la carne lavorata debba essere equiparata a tutti questi elementi, lo stesso per gli insetticidi o quanto altro nel gruppo 2 per la carne rossa. Stiamo semplicemente parlando di una classificazione generale che è stata fatta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla base di elementi che possono cagionare il cancro, che hanno probabilità di agevolare la comparsa del cancro ma che non hanno la stessa qualità. Facciamo un paragone calcistico, perdonatemi i tifosi delle varie squadre. In Serie A gioca oggi la Juventus, in Serie A gioca oggi il Frosinone. Entrambe sono squadre di Serie A, della massima serie, ma la loro qualità è diversa, il loro peso è diversa. L'amianto non è la carne rossa, l'insetticida non è la carne lavorata. E anche parlare di termini di probabilità del 18%, parliamone facendo i dovuti calcoli perché se l'incidenza di un tumore al colon nell'uomo o nella donna è del 6% anche senza mangiare carne rossa o carne lavorata, l'incidenza del 18% in termini percentuali significa semplicemente passare dal 6% al 7% di questo rischio. Non significa fare 6 più 18 uguale 24%. Ne parleremo veramente tanto nei giorni a venire e le opinioni sicuramente già si sono fatte pesare da una parte e dall'altra. Il rapporto dell'OMS completo sarà per la metà, se non erro, del 2016 e poi passeremo al caffè e vedremo un pochino tutto quello che ci capiterà. Grazie.